Ciao ciurma e bentornati sul canale! Oggi vediamo due espressioni molto simili, ma che in realtà hanno due significati completamente diversi. La prima espressione è mi lavo le mani, la seconda espressione è me ne lavo le mani. Provate a scrivere qua sotto nei commenti qual è il significato secondo voi di queste due espressioni. Vediamo la prima espressione, mi lavo le mani. Il verbo all'infinito sarebbe lavarsi le mani ed è un verbo riflessivo, ovvero io sono il soggetto che compie l'azione e questa azione ricade su me stesso, io in questo caso lavo le mie mani, sono io che lavo qualcosa, ovvero le mie mani, mi lavo le mani. Quindi io mi lavo le mani, tu ti lavi le mani, lui o lei si lava le mani, noi ci laviamo le mani, voi vi lavate le mani, loro si lavano le mani. Mi lavo le mani significa letteralmente lavarsi le mani con l'acqua e il sapone, quindi mi lavo le mani significa appunto lavarsi le mani con acqua e sapone prima di mangiare ad esempio. Mi lavo sempre le mani prima di mangiare. E invece secondo voi me ne lavo le mani, che cosa vuol dire? Il verbo all'infinito è lavarsene le mani, ma questa espressione esattamente cosa vuol dire? Me ne lavo le mani vuol dire che non mi interessa di qualcosa, vuol dire esimersi da ogni responsabilità a riguardo di qualcosa, quindi non mi interessa, non ne voglio sapere. Tu Maria fai quello che vuoi, io me ne lavo le mani, ovvero tu Maria fai quello che vuoi, fai quello che pensi che sia giusto per te, a me non interessa, io me ne lavo le mani. E siamo arrivati alla fine del video di oggi. Questo è stato un video molto breve, ma spero che vi sia stato utile per capire la differenza tra mi lavo le mani e me ne lavo le mani. Scrivetemi qua sotto nei commenti due frasi utilizzando le due espressioni che abbiamo visto oggi per farmi capire che le avete capite. Ovviamente se avete qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, scrivetelo sempre qua sotto nei commenti e sarò più che felice di rispondervi. Noi come sempre ci vediamo la settimana prossima con un altro video qui su ItalianSea. Ciao ciurma! Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Qui ti lascio un altro video utile per esercitare il tuo listening che spero possa esserti utile. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale e condividilo con i tuoi amici che stanno studiando l'italiano. Ciao e a presto!